Il miglioramento della qualità dell'aria nei primi cinque mesi dell'anno, è la nota positiva aggiunta dalla Relazione sullo Stato dell'Ambiente in Piemonte, redatta da Arpa e Regione Piemonte e presentata lunedì 5 giugno. Sensibile nelle città piemontesi il miglioramento dei dati relativi al PM10 e anche della concentrazione degli ossidi di azoto rispetto allo stesso periodo del 2022. Il tema più importante riguarda però la sicurezza. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.